Grazie. Sono brava. Ciao. Come stai? Ti trattano bene? Il tuo avvocato mi ha detto che stai meglio. Sebastiano, io ho provato a venire prima. Dovevo ucciderti. E invece mi sono innamorato di te. E io ora passerò altri 15 anni qui dentro. No. Tra un po' ci sarà l'udienza e il giudice valuterà il tuo caso e ti darà le attenuanti. Quali? Quella di averti drogato? Sequestrato? O quella di averti legato ad una seda cercando di ucciderti? Uscirai di qua. Fidati. Nessuno può fidarsi di me. Tu meno di tutti. Sì. 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 Sì.